Ciao a tutti, un nuovo video della youtube pagan challenge, siamo alla settimana numero 36, oggi ci chiedevano se crediamo nel chakra, nell'aureo e nei campi energetici, la risposta è sì e con questo potrei terminare il video, ma non credo che sareste contenti, quindi mi dilungherò un po' come al mio solito. Allora, partiamo dal presupposto che questi concetti chakra, campi energetici, aureo non fanno parte prettamente di nessuna tradizione pagana o neopagana, però credo che siano ben assorbibili da qualsiasi pratica si fa, perché è un po' come se fossero una realtà che almeno per quanto mi concerne esiste di per sé. Parla prettamente di questi concetti nella tradizione nordica, anche se diciamo che in un certo qual senso sono credo comunque osservabili in alcuni tipi di pratiche, anche un po' per quei richiami a per esempio lo stavke, la ginnastica, lo yoga runico, come viene volgarmente chiamato, ecco. Ma non solo, se vi ricordate avevo caricato proprio qui una meditazione, quella sul Valknot o Valknut, che richiamava proprio i chakra e quindi la visualizzazione di un certo tipo di energie sotto forma di Valknut con determinati colori in modo da armonizzare il proprio campo energetico e i propri chakra. Inoltre è una cosa con cui io lavoro ovviamente perché faccio Reiki, quindi è ovvio che creda che sul corpo umano esistano questi punti energetici, comunque che in qualsiasi essere vivente in realtà esistano dei punti energetici e un campo energetico. Io presumo che le malattie siano disallineamenti dei chakra, del campo energetico e che ci sia sempre una sorta di terapia che può accompagnare ovviamente una terapia medica che agisca proprio su questi punti per cercare di armonizzarli. Mi riferisco spesso a cercare a livello psicosomatico determinati problemi di salute, che cosa possano significare, quale chakra si possano collegare, come si può lavorare. Lavoro con i chakra anche attraverso la cristalloterapia, ma prevalentemente appunto mi occupo di questo per quanto riguarda il Reiki. Per quanto riguarda l'aurea, sapete già che vi ho detto in qualche video che mi capita ogni tanto di vedere l'aurea delle persone, soltanto lo strato più esterno, più fuori credo, perché in realtà non riesco neanche a distinguere diversi tipi di colori, ma non so assolutamente vedere se una persona ha dei problemi, delle malattie attraverso questa visione, anche perché è una cosa che faccio in modo incondizionato, cioè non riesco a richiamare questa esperienza a comando. Mi capita e negli anni non sono ancora riuscita a capire perché mi capiti con determinate persone, se c'è qualche motivo specifico che riguarda le persone. Ecco, però appunto io credo che l'aurea sia intorno a tutte le cose viventi, che sia lo spirito in realtà che noi abbiamo, l'energia che noi abbiamo, il nostro campo energetico. Ecco, è una risonanza che ognuno di noi emette nel mondo. E quindi niente, cos'altro dire, è ovvio che ci creda, che osservi queste cose e che cerchi in un certo qual modo di prendermene cura. Facendo comunque meditazione, facendo reiki, utilizzando delle discipline che appunto non sono magari propriamente legate alla tradizione nordica, ma che io reputo assorbibili in qualsiasi tradizione, perché sono un po' come un prendersi cura che va a parte rispetto al vero cammino spirituale. E appunto penso che questo sia un pensiero abbastanza condivisibile, nel senso che io la meditazione sul Valknutri l'ho presa dal libro di Galina Kraskova, che è una persona sicuramente incentrata sul sentiero nordico e se evidentemente ha lavorato anche lei con questo concetto assolutamente valido, ma comunque io ho ritrovato anche legami tra rune e diversi tipi di chakra che magari possono essere un po' forzati, ma allo stesso modo possono essere assolutamente efficaci e utili per un lavoro continuo e di gruppo, diciamo, tra le varie saggezze. E con questo era tutto, noi ci vediamo la prossima settimana, probabilmente non era un video lunghissimo, però non sapevo cos'altro dirvi al riguardo. Potrei aggiungere ancora qualcosa? No, non mi viene in mente niente, è un argomento basso, ma allo stesso tempo non ho abbastanza esperienza per potermi sbilanciare e dirvi altre cose, come per esempio a livello terapeutico con i cristalli, come magari posso cercare di trattare chakra, eccetera. Perciò vi lascio con questo e noi ci vediamo al prossimo video davvero, ciao! Grazie!